insieme e sono passati esattamente due anni dalla tempesta vaia che ricorderete si abbatte violentemente anche sul territorio trentino e in alcune valli del trentino ancora si sta lavorando proprio per riparare i danni della tempesta vaia e sono passati esattamente due anni dalla prima puntata di mattino insieme era il 29 ottobre del 2018 a tenerla battesimo c'era la nostra antonella carlin che oggi in apertura vogliamo salutare sarà domattina in vostra compagnia come tutti giovedì abbiamo ospite in studio diego andreatta direttore di vita trentina buongiorno bene anche da parte mia buon compleanno bel traguardo per il vostro contenitore lunga vita no come si dice certo grazie grazie infinite e ovviamente estendiamo questi auguri ad antonella e ovviamente a tutti i nostri tecnici e alla nostra regia che chiaramente ci permette tutti i giorni di andare in onda dopo appunto queste auto celebrazioni se così le vogliamo definire andiamo la prima pagina di vita trentina di questa mattina il titolo di apertura è visite a distanza perché perché si parla delle imminenti celebrazioni dei defunti appunto dei prossimi giorni che saranno particolari anche quelle quest'anno sì certo questo numero fa un po il punto anche sull'escalation della pandemia e tra i tanti comportamenti sociali che ne vengono influenzati c'è anche l'appuntamento annuale con i mostri defunti un appuntamento che poi quest'anno è anche un lutto che si rinnova pensando a tante persone che ci hanno lasciato anche tutto il trentino gli anziani nelle case di riposo proprio a causa del coronavirus sarà un momento di raccoglimento particolare come registriamo anche attraverso un'intervista ad alcune persone della valle del chiese particolarmente colpita e in più ci viene richiesta l'attenzione ci vengono richieste le misure di sicurezza che vanno naturalmente rispettate quindi abbiamo offerto anche con l'aiuto di don piero rattin biblista anche lui contagiato a suo tempo una riflessione appunto su come poter vivere questo legame questa sosta questo fermarsi in questa atmosfera nuova inedita voi poi chiaramente vi occupate anche proprio dell'emergenza e di questi contagi che purtroppo continuano a salire anche la giornata di ieri è stata una giornata veramente drammatica con cinque decessi e le persone in terapia intensiva adesso sono sei ma comunque in aumento come pure gli ospedali gli ospedali che appunto si stanno purtroppo ripopolando insomma di malati di covid sì abbiamo appunto dedicato due pagine un servizio anche informativo per capire come muoversi per raccogliere questi consigli che vengono anche dalla provincia che ha scelto peraltro una sua strada anche un po autonoma su alcuni aspetti con relative polemiche registriamo anche il punto di vista di due categorie fra le più colpite quella dei ristoratori e anche quelle degli organizzatori di eventi culturali rassegne che spesso sono costate mesi e mesi di preparazione ecco accanto a queste insomma proteste che sono comprensibili tentativo di limitare l'impatto resta il fatto che insomma una sosta un meno parziale a rallentamento della propria attività è richiesto a tutti questa è la strada inevitabile proprio se si vuol prevenire il peggio quindi questo è lo spirito con cui abbiamo richiamato l'attenzione insomma non solo di quanti sempre più numerosi vengono in qualche modo toccati dall'esperienza dei tamponi ad esempio ma anche quanti non lo sono però devono essere appunto sollecitati a non pensare che tutto può andare avanti come prima la via trentina al decreto abbiamo visto proprio la pagina che scorreva prima e proprio è di ieri sera la novità che è ufficiale ormai dell'impugnazione proprio di quella via trentina al decreto di quella via trentina al dpcm del premier conte no sì certo qui siamo sul filo delle interpretazioni giuridiche penso che il governatore fugatti sapesse insomma a che cosa andava incontro ecco evidentemente c'è un tentativo di vedere se appunto attraverso anche le maglie giuridiche della nostra autonomia si riesce a ottenere qualcosa che sia più rispettoso della specificità dell'andamento della pandemia nella nostra terra e anche delle caratteristiche certo questo non può essere una forzatura se devo dire un parere così personale ad esempio io credo che sugli impianti turistici sciistici chiedo scusa non si possa forzare più di tanto quindi è giusto mettere appunto dei protocolli pensare come poter evitare assembramenti code però bisognerà poi anche accettare dei divieti precisi o delle temporanee anche chiusure di attività sono rinunce che anche altri settori economici hanno dovuto fare quindi ne sappiamo la portata sul piano generale però qui deve venire in primo piano insomma il bene comune che poi passa attraverso la salute assolutamente sì nel tuo editoriale questa mattina ti occupi Diego dell'inchiesta sul porfido ne abbiamo già parlato anche nelle scorse settimane perché chiaramente quella è un'inchiesta molto vasta e della quale torneremo ad occuparci e ci occuperemo penso per molto tempo no? Sì ho voluto tornare anche se la notizia ormai del 15 ottobre sono passate due settimane però sono emersi alcuni commenti che mi era sembrato opportuno valorizzare in primo luogo quello del nostro arcivescovo laurotisi che ravvisa comunque un rischio di sonnolenza del trentino di mancata vigilanza un certo modo appunto di intendere l'autonomia come comunque un essere migliori diversi rispetto agli altri ecco queste queste vicende di un'infiltrazione mafiosa che evidentemente va a essere pervasiva anche di ambienti che pensavamo immuni ci deve interrogare ma poi dalla magistratura sono emerse in questi giorni successivi agli arresti e rinvia giudizio anche alcune evidenze rispetto ad esempio al sistema delle sospette allora concessioni delle cave e poi anche a una possibilità di truffa rispetto alla dichiarazione delle quantità di materiali estratte dalle aziende trentine anche su questo avevamo avuto delle denunce delle segnalazioni ma non si era mai andati insomma a fondo per cui credo che questa indagine insomma non possa essere archiviata in fretta deve rimanere un po come un punto fermo soprattutto per quell'aspetto poi così anche di con una ripercussione sulle persone più deboli che sono la mano d'opera sfruttata sulla prima pagina di vita trentina vi occupate questa mattina anche dell'abbraccio di roveretto a doniva mafeis che dopo una decina d'anni ha fatto proprio il suo ritorno in trentino e lo abbiamo già raccontato che lui adesso si occuperà proprio di roveretto si roveretto anche qualche parrocchia della vallarsa è stata una domenica semplice anche di affetto nei confronti dei due parrocci che lasciano don sergio nicolli e don emanuele cozzi chi ha partecipato come si legge anche dalla cronaca della nostra brava laura caldi roli ha vissuto per un momento di chiesa molto molto significativo anche a distanza eccolo qua eccolo esatto ecco il sorriso di don ivan che appunto è tornato in trentino lo ricordavo prima in apertura sono passati oggi due anni dalla tempesta vaia e anche voi vi occupate proprio del bosco che ricresce dopo quella tempesta sì abbiamo proposto uno spunto positivo incoraggiante è l'iniziativa che appunto si è realizzata sull'alto piano di pine dove sono stati messi a dimora 727 piante di larice nella zona della faida tra l'altro uno dei versanti più colpiti sotto la costalta ecco un segnale di ripartenza ma anche di ricordo della ferita che vaia ancora lasciato inciso sul nostro territorio poi come vediamo proprio anche dal giornale in questo momento c'è questa rivoluzione monopattino così la definite anche trento si attrezza vedete presto 500 mezzi a noleggio questa è veramente una moda che si sta diffondendo sempre di più anche qui in trentino è partita chiaramente nelle grandi città europee mondiali adesso sta arrivando anche da noi sì ci siamo rivolti al comandante dei vigili urbani per avere delle indicazioni chiare sulle norme che appunto regolano l'utilizzo di questo strano strumento che a noi forse fa tornare all'infanzia qualche ricordo dei primi ragazzi che andavano con una gamba sola di fatto su questo monopattino mai avremmo pensato che sarebbe stato un giorno anche elettrificato motorizzato e sarebbe diventato ancora utile con qualche problema di convivenza però con con i passanti che va naturalmente regolamentato comunque un un veicolo ecologico e quindi ben venga per chiudere anzi prima di chiudere c'è qualcos'altro che magari io non ho notato nell'edizione di questa mattina Diego Andreata lo sapete che mi fa sempre l'esame no il giovedì mattina oggi sono stato un buon alunno oppure no nel leggere i settimane di Ocesano ma io in verità sono contento di trovare qualche qualcosa che tu non hai detto perché vuol dire che il giornale è ancora di più di quello che che arriva alla tua attenzione la storia di Salvatore Lagati però che abbiamo a pagina 7 è molto interessante questa questo esperto che si è dedicato ai bambini sordi ai sordo ciechi che per 40 anni a Villa Sant'Inazio ha organizzato queste settimane estive in cui dà la possibilità a bambini di tutta Italia insieme ad alcuni volontari di avviare un discorso di di appoggio anche ai loro genitori ai loro familiari dei bambini sordo ciechi chi l'ha conosciuto andrà volentieri a leggersi questo ritratto di Roberto Moranduzzo a pagina 7 prima di chiudere ricordiamo come sempre anche il vostro sito internet sì è il nostro è la nostra finestra quotidiana in cui tra l'altro i nostri lettori chi non riuscisse a vederci in questo appuntamento può anche rivedere parte di questa chiacchierata ci sono poi altre iniziative che abbiamo pensato solo per il sito internet ad esempio una serie di personaggi trentini dimenticati le vite trentine disegnate dal nostro illustratore Giorgio Romagnoni eccolo qua Tita Piazza il diavolo delle dolomiti ringrazio molto la vostra regia per questa puntuale attenzione ecco è una rubrica che con il linguaggio rapido immaginifico insomma del web poi gira e vola anche sui nostri social così come il grande Tita Piazza danzava sulle torri del Violet noi ringraziamo molto Diego Andreatta direttore di vita trentina che anche questa mattina ci ha aiutato proprio a porre uno sguardo su quello che accade nella nostra provincia ma non solo anche a livello nazionale e internazionale grazie infinite